E' tu fedele che guardi ti ricordo di mettere mi piace alla pagina Facebook e di condividere il video Fatto! Ok ora goditi il video Mentre venne orribilmente stocchiato ti dai cap a P 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 Guardando una serie tv Prima che lasciassi questo pianeta e scendessi al cielo Dopo 8 mesi Qualche giorno fa ho sogno al piferaio atomico Piferaio atomico Poi ce l'ho nel cuore Perché ti dai poteri di far conoscere a tutta la gente nel mondo che programma uso 8 mesi e almeno 6 sono serviti ad elmo per Ecco come potete vedere Posso bere la mia dose adesso? Uso Sony Vegas Pro Cazzo! C'è il rete di MENTANA che spara G-laser Sono affezionatissimo a MENTANA Benvenuti a un ventana, non ho mai perso il capapipold Oggi su YouTube rende di più la quantità che la qualità, questo non dovrebbe essere giusto La fantasia e l'originalità per fare un video qualunque sono molto importanti Invece ultimamente si premia chi si mette in ridicolo o fa video che sono la moda del momento Siate affamati, siate folli Ora andate e diffondete il mio verbo